Per gli appassionati della settima arte, il periodo più bello dell'anno sta per avere inizio. Dopo l'annuncio dello scorso 24 gennaio della Rosa dei Candidati agli Oscar 2017, il countdown per l'evento più importante in ambito cinematografico è ufficialmente partito. All'attesa di scoprire i vincitori finali, si aggiunge negli spettatori anche la voglia di vedere finalmente sul grande schermo le pellicole di cui si è sentito tanto parlare. Ecco allora che le prossime uscite nelle sale saranno accompagnate da un pizzico di curiosità in più del solito. Tra tutti il più desiderato è La La Land, il musico di Damien Chazelle che dopo aver vinto ben 7 Golden Globes ha ricevuto 14 nomination dall'Academy. Capace di eguagliare soltanto i successi di Eva Contro Eva e Titanic, il film ha creato tante aspettative nel pubblico. Altrettanto grande l'interesse che ruota attorno ad Arrival l'ultima impresa di Denis Villeneuve, un misterioso oggetto proveniente dallo spazio a proda sulla terra. La linguista Louise Banks, interpretata da Amy Adams, si renderà indispensabile per decifrarne i messaggi. Infine è tanta l'attenzione che si è sviluppata attorno alla battaglia di Oxford Ridge, firmato da Mel Gibson. Nelle sale dal prossimo 2 febbraio racconta la storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore. Anche quest'anno sarà difficile la scelta del miglior film, staremo a vedere chi la spunterà.